Ciao amici di nuova recensione, vi parlo oggi del Topolino numero 3586 con questa bellissima copertina Andrea Freccero che omaggia non solo Carpi ma anche Sandopaper, una delle mie parodie preferite in assoluto una delle storie più belle dell'autore e in generale delle parodie Disney ma guardiamo il tutto meglio assieme Vediamo un guardo più nel dettaglio a questa bellissima illustrazione dal colore molto acceso, questo verde risalta molto il disegno in primo piano di un bellissimo Sandopaper anche se nel video lo ripeterò probabilmente altre volte, per me Carpi è inarrivabile tra l'altro Freccero, manco farla apposta, o forse sì chissà, fu allievo di Carpi pensare che ora Freccero sia diventato il disegnatore per eccellenza del mondo Disney e comunque del mondo del fumetto e che omaggi il suo ex maestro, un maestro per sempre, Carpi con la sua più bella parodia per me è qualcosa di molto evocativo, di molto emozionante anche Andrea Cogol perfetto al colore come sempre Aprendo l'Hub abbiamo il classico che è Retire Paperopoli con Silvia Ziche e con Dio Paperone Un giorno il bagno in un mare di soldi, il giorno dopo la scalata di una montagna di monete Cosa c'è di meglio di una bella vacanza al deposito? Se diverte così, Dio Paperone ama stare con i propri dobloni, con le propria monete Le carte che ovviamente comprai anche il secondo mazzo ma lo tengo chiuso Perché non mi interessa aprirlo, di fatto non ci gioco ma il primo mazzo l'ho sempre aperto, il secondo tengo chiuso Questa è la mia prassi, la mia filosofia collezionistica Bertani ci augura buon ferragosto anche se per me ormai è molto tardi leggere questo redazionale ma d'altronde mi è arrivato con un po' di ritardo il fumetto E comunque augurandoci buon viaggio, che indirettamente significa buon fine di vacanze perché ormai siamo nella seconda parte dell'estate inoltrata Ancora una volta questa è la bellissima cover di Freccero in artwork E partiamo con Sandopaper, di Sisti, Freccero, Stracchi e Fornari Nomino pure i coloristi perché hanno fatto un lavoro non indifferente Io inizialmente, in maniera del tutto ignorante, pensavo fosse il sequel Ho pensato, ah che bello, torna Sandopaper Il fatto che torna significa dare un'altra storia nuova rispetto a quella che vedemmo in passato Non è così Penso sia un unicum che un personaggio torni nelle pagine del Topolino riproponendo la stessa storia Ovviamente un reboot, un remake, cambiando qualcosa sicuramente Cambiando il disegno per esempio, cambiando anche la sceneggiatura perché al tempo c'era Gazzarri nelle prime due storie, nelle prime parti e poi Carpi come autore completo Ma onestamente pensavo potesse essere un sequel, un'altra avventura dell'attività della Malesia E invece no Una storia che comunque io ho molto apprezzato Partiamo dal disegno di Freccero che è spettacolare C'è poco da fare, poco da dire Andrea Freccero per tanti è il migliore Per me non lo è perché è solo disegnatore Preferisco Mastantuono, preferisco Casti Ma come disegnatore unico sul Topolino lui è Disney Lui ha questo tratto inarrivabile Oggi quantomeno, non è paragonabile ai mostri del passato Quali Carpi, Bottaro e Scarpa Però probabilmente posso anche io dire che oggi come disegnatore unico è il migliore Anche meglio di Cavazzano Cavazzano di oggi non è più lo stesso di quello di un passato Freccero è ancora abbastanza giovane E per la sua età ci potrà ancora dare grandi soddisfazioni Peccato, compaia poco Ma questo è una conseguenza del suo lavoro da art director, da supervisore artistico La storia di Sisti è ben confezionata Ripeto, è un remake, è un reboot della serie Mi dispiace che sia in due parti divisa in due albi Perché per me Sandopaper si omaggia in questo fumetto Mentre nel prossimo si omaggerà, spoiler dalla copertina Già a un fumetto sulle Top Stories Quindi perché non inserire Sandopaper qui dentro? Nei ultimi tempi questa mossa era stata evitata O restare inserita probabilmente per dare un piglio in più alle vendite E per sfruttare comunque il fatto che siamo in piena estate Quindi aumentare i possibili clienti Ma non lo so, è una storia molto bella Però non così da suspense Ecco, non è una storia che ti rimane il mistero Da voler dire voglio sapere per forza Io, cliente occasionale Però dal suo punto di vista Di sapere come va a finire Comunque, l'avventura è classica Riprende Sandopaper La teglia della Malesia Un pirata che insieme al suo cugino Paperoga I nipotini e la sua ciurma Cercano di affondare O quantomeno abbordare le navi altrui Con più o meno strategia Con più o meno piglio e creatività Arriveranno a voler abbordare una barca Che sarà presente Gastone Che in questa storia non è suo cugino Ma è una barca Dello zio Paperone Il zio Paperone è chiamato Lord Paperillon Che mi pare Quindi dovrebbe essere lui il nemico Di questa avventura Ma l'abordaggio non andrà per nulla bene Tanto che l'esito sarà un naufragio Da parte di Sandopaper Stesso Papero che verrà trovato Proprio da chi? Da Di Paperone Da quello che lui Negli ultimi anni cerca di combattere Cerca di affrontare Ma che mai ci riesce O comunque che mai è riuscito a sconfiggere C'è anche un altro personaggio Ovvero Paperina Che è la figlia di Di Paperone E quindi ovviamente È ovvio che scatti l'amore fin da subito Perché Paperina è molto attraente E Sandopaper questo lo riconosce Ricordando però i ruoli Sandopaper è un pirata Mentre Paperone Zio Paperillon Che è un magnate Insomma nulla a che vedere con i pirati Ma Sandopaper furbescamente Si presenterà anch'esso come Marajah Come personalità molto forte Come un sovrano indiano Che è venuto di per fare affari Peccato ripeto che sia solo un reboot Perché per me poteva essere una vera storievento Poterla inserire come seguito Quella precedente Come creatività Anche Alessandro Sisti Per me aveva le capacità Avrebbe avuto la capacità di farlo Ma evidentemente i piani sono stati altri Sul disegno ancora una volta mi esprimo Per me Carpi è inarrivabile Per quanto Frecero E' stato bravissimo Ma non devo dirlo io questo Io ricordo benissimo i segni di Carpi E' un'altra storia Molto simpatica l'idea di Inserire questi sfondi a tinta unita Quindi qui la menzione d'onore va a Stracchi e Fornari Perché ricorda molto il passato Questo giallo, blu, rosa Quando un tempo non si dava nessun dettaglio Appunto allo sfondo E qui abbiamo per me i disegni più belli Troviamo in bianco e nero Con l'intervista di Garufio Appunto a Sisti e Frecero Di Sisti inestamente sono sincero Interessa poco Ma i disegni di Frecero si Quando dico che il bianco e nero E' sopra Un livello sopra rispetto al colore Intendo questo Guardate che spettacolo Il bianco e nero con la china Quindi il bianco e nero pronto per essere colorato Io rimango di questa idea Io sono sicuro che un domani uscirà Un taccuino dedicato a Frecero Perché ormai uscì Cavazzano A Lucca uscirà bastanto uomo Lucca 24 Quindi sono sicuro che prima o poi Anche Frecero avrà questa possibilità Perché ovviamente è meritevole Non solo per le storie disegnate Negli ultimi anni Che sono poche Ma per le copertine O per gli sketch Per i vari bozzetti Andiamo avanti con Topolino Incontra un gatto Zironi fa tutto Dal soggetto al disegno Il disegno di Zironi Non mi fa quasi mai impazzire Sono sincero L'ho sempre detto È un Topolino molto spigoloso Però apprezzo l'impegno dell'autore Perché ricordando Lui nacque come steggiatore E solo negli ultimi tempi Si sta improvvisando E ci riesce Per qualcuno piace anche molto Disegnatore Quindi il punto in più Va per il coraggio Va per l'idea Va per la creatività Va per l'impegno Però rimane un disegno Che a me non piace Ecco sono sincero L'avventura però in questo caso È molto più scorrevole Anche per i disegni Che proprio in maniera eccezionale A sto giro mi piacciono Sarà perché è una storia Molto semplice Non è la classica Di Giramondo Così particolare Neanche così di Tascalica Zironi forse vuole puntare Molto di più sul disegno Che sulla storia Flegiatura In questa avventura Perché guardate Come riesce benissimo A destreggiarsi Con fiumi Mari Pioggia Stravordamenti dell'acqua Insomma Il focus è questo Molto molto belli A suo giro Promuovo Zironi Anche se solitamente Non lo faccio E l'avventura È forse una delle più banali Di questa serie Di Tocalica Giramondo Ma che però Ho comunque apprezzato Parliamo di Dopodiché si ritrova Nelle Ande In Peru Proprio alla sorgente Del famoso Rio delle Amazzoni Ovvero il fiume più lungo Del mondo Che misura Ben circa 7000 chilometri Fiume che però In alcune zone In alcune parti Risca di strabordare C'è una casa Una casa in cui Lui Farà tappa Per dormire La casa del gatto Così chiamata Che è proprio a rischio Di questa incombenza Chiamata casa del gatto Perché ci sono Una marea Di felini In questa struttura E Topolino Vivrà l'avventura In particolare Con uno di essi Che chiamerà Gatto O forse Questo è il suo nome Ma insomma Vivrà l'avventura Con questo simpatico Buffo E anche arrogante Un po' aggressivo Un po' particolare Gatto Storia che dimenticherò Perché di fatto Giramondo Così funziona Sono storie Belle da leggere Però a me Non rimangono impresse Belle le avventure Sono scorrevole Dinamiche molto spesso Anche perché Zironi cura tutto Quindi sa bene Come svolgere I ritmi I tempi In base al disegno Però insomma Storie che sicuramente Avranno la possibilità Di essere ristampate Dato che parliamo Già di una ristampa In deluxe E perché no Anche successive Di questa saga Che può andare avanti All'infinito Luoghi nel mondo Sono infiniti Potenzialmente Da andare a cercare E farci una storia Quindi Zironi Finché penso Avrà voglia Potrà andare avanti All'infinito Andiamo avanti Con una relazione Dedicata ai propri gatti Viaggi A imparo gatto A partire da tutte Le specie Le più conosciute Le più rare O comunque Le più iconiche Di varie Nel mondo Come in Giappone In Turchia In Russia In Belgio Paesi bassi E di come il gatto Viene in qualche modo Venerato O comunque Viene apprezzato Dalla comunità Di noi esseri umani Il gatto È un prezioso compagno Dell'uomo Secondo me Il mio parere personale Anche più del cane Infatti Preferisco I primi Ai secondi Ecco Qui ho una relazione Dedicata a Sandopaper Che è una ristampa Che sta uscendo adesso Comunque negli ultimi tempi Però io onestamente Avrei inserito Proprio Sapendo Evidentemente La relazione Questo lo sapeva già prima Di fare un reboot Della storia di Frecciero Avrei messo anche Quella nell'albo Creando un fumetto Di Sì Magari troppe pagine Siamo sulle 150 totali Compresa la storia di Carpi Quella di Frecciero Ipotizzo Però Molto più meritevole A mio parere Cosicché da poter dare anche Spazio agli sketch Sia di Carpi Che di Frecciero Invece così Da quello che ho capito Abbiamo solo la storia Di Carpi Per quanto molto bella O meglio Le due storie Due capolavori Sandopaper La parola di Labuan E le due tigri Boh Avrei preferito Ecco Per chi comprerà Il volume Perché non sarà uno di quelli Quindi si è inserito Per completezza Per coerenza Anche la storia di Frecciero Faraci e Faccini Confezionano l'ennesima storia Buffa Dedicata a Paperino Non più Con gli allegri mestieri Ma con le allegre Ferie Di Paperino Il titolo è proprio In ferie Quindi dopo aver visto Una serie di lavori Una serie di mestieri Che hanno attanagliato Il povero Papero Adesso una serie di ferie A quanto parlo Non so se questo sarà Il primo di una lunga serie Oppure se sarà Un one shot Insomma Una storia dedicata ad essa E basta Insomma Paperone Ovviamente Cerca Nipote Per l'ennesimo lavoro Che dovrebbe essere Con la dottore Di Materassi Ma lui si oppone Paperino si oppone Delle rare volte In cui lo fa con fermezza Dicendo che è in ferie Appunto Lui non si muove E non si smuove Dalla sua idea Ma vivrà delle ferie Che nessuno vorrebbe vivere A parte un po' Nella noia In generale Non c'è nessuno Che può vivere Con lui le ferie Non c'è nessuno Che gli sta vicino E comunque Pure In questi momenti Di relax Ovviamente Ci sono alcune disavventure Insomma L'idee Potenzialmente ci sono Per fare un'altra Miniserie di storie Starà Faraci Riuscire ad averle Queste idee E a Faccini A metterle Magistralmente In pratica Perché L'ho sempre detto Faccini e Paperino O Paperoga Riesce a destreggiarsi Benissimo Perfettamente Nelle espressioni Faccini lo conosciamo Sarebbe capace È capace Di fare Delle storie mute Perché le espressioni Parlano La magia del disegno Terza e ultima volta Con facciato Dedicata ad Amelia E piccolo spoiler Nel prossimo fumetto Avremo un altro personaggio Con un altro nuovo autore Vedremo fra poco Opinion supporter New Paperoga Professions Endesima storia Di Bosco Guerrini Così come accadde Nello scorso numero Abbiamo una storia dedicata A questa strana coppia Sganga e Paperoga Dove il primo Crea lavori Crea Dei nuovi posti di lavoro E sarà Paperoga A doverli mettere in atto Arrivare infatti Un cliente Che farà capire A Sganga e Paperoga La sua Delusione La sua tristezza Nel non essere mai capito Come supporter E quindi Lui vorrebbe Che qualcuno Lo incoraggiasse Anche solo Con delle conferme Quando lui va al bar Molto spesso Per parlare di calcio Tutti gli altri Gli vanno contro E nessuno Supporta la sua idea Ebbene Il lavoro di Paperoga È questo Quello di supportare L'idea di questo tizio Di questo cliente Davanti a tutti gli altri Cosicché da mettere in risalto Le idee del tizio stesso In maniera positiva Si parla di calcio E Paperoga Fin da subito però dice Sì io sono un fan del calcio Ma Paperino Lo è di più Non dico altro Perché ovviamente Il finale Non può che andare male Sono storie queste Che non hanno un lieto fine Per quanto molto divertente Giochi Pubblicità E arriviamo con Un reazione dedicato A super colorati Con una serie di Bellissimi Tucani O comunque uccelli Con un tocco di colore Al regno animale Bellissimi Veramente belli E l'ultima storia Di Paperone E l'affare di concorrenza Macchietto Mazzarello Piccola critica Mazzarello Non mi piace Come ha disegnato La criniera La folta criniera Di Battista Sono sincero Preferisco Dei capelli più moderni Battista è anche Riconoscibile Grazie ad essi E lo trovo Non so Un po' troppo spettinato Non mi piace particolarmente Poi per il resto Mazzarello si comporta In maniera pochettiguitosa Perché ormai Il suo tratto a me piace Devo essere sincero Anni fa no Ma negli ultimi tempi Sì Ecco Se non fosse che la storia È un po' l'ennesima Trita Ritrita Avventura Con lo zio Indovinate dove Alla ricerca Di un tesoro O meglio Alla ricerca O alla conferma Possiamo anche dire Di una condizione mineraria Che da poco Ha rilevato E indovinate Chi ci sarà contro A mettergli un po' La questione delle ruote Rockerdac E questo binomio Non si riuscirà mai A scardinare D'altronde è così Dove c'è Gambadellino C'è la polizia Dove c'è Macchinale C'è Topolino Dove c'è Rockerdac C'è Dio Paperone Però queste storie Sono veramente pesanti A mio avviso Per quanto Questa in particolare È poco testuale Molto di disegno Quindi ho apprezzato Questa scelta Di limitare i dialoghi Anche perché alla lunga I due si conoscono Talmente bene Che bisogna anche Essere troppo creativi Molto creativi Nel riuscire a dare Nuovi discorsi ad essi L'avventura si caratterizza Un po' Da questa fase Di sopravvivenza Insomma Due anziani Miliardari Che devono sopravvivere In questo bosco Ma che ovviamente Chi dei due La riuscirà A sfangare Chi dei due Avrà la meglio Sull'altro È sempre così Peccato Rockard è un personaggio Che non so Se riuscirà Mai a evolversi Perché in questa Dicotomia In questa avventura Di Nemesi Contro lo zio È destinato A perdere Piuttosto Allora io avrei messo Rockard come capo Del club dei miliardari Perché no Anche solo ad onore Invece se perfetto Mezzo a un altro personaggio Conestamente Non mi ricordo manco più Neanche Red H Insomma Un personaggio a capo Si potrebbe valorizzare meglio Rockardack Considerando anche La bella storia di Nucci Cavazzano Della ballata Di John di Rockardack Che sembra però essere Un po' dimenticata Perché anche lì Non abbiamo poi Nessun tipo di sequel E ce ne sarebbe da dire Potenzialmente Visto che di Rockardack Conosciamo sì Qualcosa Ma non quanto lo zio Abbiamo un ristorante Dedicato al nuovo classico Il Papo del Grande Nord Con copertine Meravigliose Io invidio Da un punto di vista Michele L'amico Michele Perché ha tutti i classici Della prima Dell'ultima serie E ha delle copertine Spettacolari A cura di Stefano Zanchi C'è veramente poco da dire Anche perché il titolo Sta perfettamente Dentro l'albo Perché non è un titolo Spiacicato Come lo sono molto spesso Negli albi Come può essere Anche nelle ristampe Adesso a dire Che è Sandopaper Vediamo se è così o meno In questo caso Il titolo è carino Però si vede Che è inserito In maniera postuma E qui invece Qui l'autore Disegna il titolo E questa è una cosa in più Secondo me Come tante volte Viene disegnato il numero Dentro il fumetto Invece che è spiacicato Ma disegnato Però per il resto Sono albi Che non prendo Non prenderò mai Eccetto Come feci in passato Per quello di Marco Nucci Macchia Nera Per quello di Tonno di Centoporti Di Marco Nucci E quello di Cassi Di Doppio Scherzo Dovessero uscire in futuro Di altri Questi due autori Li prenderei Altrimenti no Buon Ferragosto Ovviamente con ritardo Ma qui ci sono le foto I disegni Di bambini Presenti Alla fine Dell'albo Sempre meritevoli Sicuramente Io penso Si è una bella emozione Apparire sul topo L'ho sempre pensato Con la propria faccia Anche da bambino Per poi rivedersi in futuro Topolino in giallo Che esce questo terzo Albo estivo 2024 Come ormai Da diverse stati E poi la prossima copertina Non ha spazi bianchi Non ha spazi bianchi Come si direbbe a scuola E lo sfondo Anche importante Da vedere Quindi mi riservo Di dire che Boh Vedremo poi qualche giorno Come sarà Con le top stories Che torno Con pezzine Anche di questa rubrica Potenzialmente Come zironi Con giramondo Può andare avanti All'infinito L'autore finché ne ha voglia Sandopaper Secondo episodio Di Anamite Blatt Ora dopo un tantissimo tempo Con Giunta e Panaro Paperino che ho qua Pet Sitter Una storia estera Direi Importata Di Nerum Lockling E Midstone i disegni Una grande storia Mi immagino Emily Di cui io Ho Grandi aspettative Perché vorrei capire Di chi si parla Sarebbe Emily Paperet Beh interessante Se si creasse Una sottotrama Anche di un personaggio Come lei E poi il commissario indaga Con Bosco Ed Esattamente come In questo fumetto Come one shot finale Insomma Classici Anche se Valerio Elde In questo caso Si è superato Col disegno Perché l'ho apprezzato Seppur in una sola tavola Che dire Un albo che promuove A pieni voti Sandopaper Un po' deludente A mio avviso Da grande lettore Del fumetto Disney Che sia solo Un semplice Tra virgolette Semplice Reboot Remake Un rifacimento Nera moderna Per il resto Non ho manco apprezzato Il fatto di non avere La storia completa Ma vabbè Queste sono scelte di marketing La storia su Zironi L'ho apprezzata Così come Quello su Paperino Sui Paperi L'ultima L'ho apprezzata Perché è più scorrevole Rispetto alle trite Ritrite Avventure Quindi dai Io darei anche Un bel otto e mezzo Peccato Peccato per quelle critiche Mosse qua e là Che avrebbero potuto Risaltare ancora di più Questo voto Già molto alto Ci ho detto Vi ringrazio Vi saluto E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti